Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali del Geotech Pro HRM. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Braccio decespugliatore Geotech Pro HRM è uno strumento affidabile e versatile, progettato per gestire efficacemente una varietà di vegetazione come erba, residui vegetali, cespugli e sarmenti. La sua versatilità lo rende adatto per la rimozione di vegetazione in eccesso in diverse aree, inclusi gli sparti traffico, i bordi stradali e i passaggi di servizio. Inoltre, si dimostra estremamente utile nella pulizia e manutenzione di terreni adiacenti ad abitazioni private, parchi pubblici e aree ricreative, garantendo sempre massima efficienza e sicurezza. In termini di affidabilità e qualità costruttiva, il braccio decespugliatore Geotech Pro HRM si distingue per i suoi componenti di alta gamma, attentamente progettati in Italia. Questi componenti assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Il braccio è dotato di un sistema di comando remoto con quattro leve, che offre un controllo preciso e intuitivo durante il taglio. I tubi flessibili inclusi consentono di posizionare il pannello di controllo direttamente sul trattore. Il braccio decespugliatore è fornito di un distributore idraulico IdroControl, un prestigioso marchio italiano che garantisce qualità eccellente e controllo affidabile nelle operazioni di decespugliamento. Il braccio decespugliatore è equipaggiato con una pompa idraulica doppia di casappa, rinomata per la sua efficienza e robustezza. Questa doppia pompa facilita la gestione simultanea del movimento del braccio e del processo di trinciatura, migliorando significativamente l'efficacia del lavoro. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.